Siamo ancora qui con il Presidente Romano Citti, Presidente della Fondazione Palazzo Bolcella, a parlare, credo, della prima scuola in Toscana di alti studi con riferimento alla cuscina e alla enogastronomia. Questo è il contenuto del nostro colloquio. Ecco, ci siamo lasciateli parlando a 18 allievi. Da quale parte vengono questi ragazzi? La metà sono della provincia di Lucca, l'altra metà sono prevalentemente toscani, alcuni toscani, poi c'è due di Roma, uno di Padova, poi c'è Arezzo, c'è Massa, Sarzana, sono la parte Lucchesia, Capanno, Rilucca. Perfetto. E senta, quali sono le discipline di questa scuola in sintesi? In sintesi sono cinque. Allora, cultura, accoglienza, economia, enogastronomia e poi il venerdì mattina è dedicata allo studio dell'inglese e quindi al rafforzamento, diciamo. Ecco, questi ragazzi devono studiare, dormono lì, se ho capito bene, come è il college. Sì, studiano la mattina e pomeriggio. Poi al fine settimana vanno nelle case di prevenienza se vogliono, se no rimangono là dentro. Vederdì pomeriggio, dopo pranzo, c'è alcuni, quelli di Roma, quelli di Roma, quelli di Padova, eccetera, che una volta al mese vanno a casa. Ecco, senta un po', fermandosi un attimo soltanto sull'accoglienza. Tradizionalmente, noi non abbiamo una grande cultura di accoglienza da un punto di vista scientifico in Italia, abbiamo un'accoglienza ottima, credo, di tipo mediterraneo, calda, ma forse un'accoglienza che deve ancora imparare a fornire agli ospiti tutta una serie di servizi che oggi gli ospiti richiedono rispetto a chi si muoveva dieci o vent'anni fa. Ecco, diciamo un'accoglienza standard europeo. Su questo come vi muovete? Sì, dell'accoglienza, ma in particolare della comunicazione. Cioè, tutto il problema, molto del problema, sta nel... come si comunica ai ragazzi questo tipo di... in questo settore dell'accoglienza? Come dovranno comunicarlo in concreto per portare avanti tutto questo discorso? Ecco, i docenti si cercheranno, stanno cercando, proprio di fare capire come si comunica questa cosa, che è determinante ai fini dell'accoglienza del turismo. E qui avrete anche l'altro problema, come si cucina, perché presumo che la cucina mediterranea è celeberrima in qualche modo, quella italiana, però poi va innovata anche qui. E c'è un... praticamente un chef, che è anche un tutor, che praticamente sta con i ragazzi in cucina. Ogni settimana ci sono quattro studenti che fanno colazione, pranzo e cena. E quindi... e poi la settimana successiva altri quattro... Quindi praticamente viene fuori una cosa che è abbastanza suggestiva, nel senso che i beni culturali non sono soltanto quelli storici a cui noi siamo abituati, non so il giusto Palazzo Boccella o il Duomo di Milano, ma sono anche appunto queste prestazioni di servizio innovato e particolari che nascono da una regione e poi... e quindi voi curate molto anche questo aspetto qui. Ma mi curiosisce una cosa, ma si parla noi di ragazzi, ma non è che... di questa scuola ne avranno bisogno anche alcuni proprietari del resort o dell'agriturismo o degli alberghi? Beh, ce ne sono alcuni che ci hanno mandato i figli. Ah, ecco, quindi c'è già una... C'è un tentativo di costruire. Perché la cosa importante è che al termine di questo corso, che pur dura due trimestri teorici e il terzo stage in aziende del settore, in pratica, hanno due possibilità, molto sinteticamente. Hanno due possibilità, o continuano a studiare per la laurea breve o in accoglienza e quindi a Campus, o in enogastronomia a Padova. E a questi ragazzi gli verrà riconosciuto i crediti formativi acquisiti durante la permanenza a San Gennaro, a Palazzo Boccello. La seconda ipotesi è che vengono accompagnati nel mondo del lavoro. E questo ci pensa Campus, perché l'intera gestione della scuola e della struttura del Palazzo è in gestione affidata a Campus. Ecco, questo è molto interessante. Da una parte emerge quello che in molti paesi europei direi è l'anno sabbatico, cioè di sospensione, e voi coprite questa sospensione tra la scuola e l'istituto superiore, come si diceva un tempo, e l'università con questa formazione che è molto interessante perché lanciate poi sull'università le risorse umane che avete educata. È molto interessante questa cosa. Fa riflettere anche sul fatto che in fondo ci si muove anche in Italia su certe... Ecco, ma mi dica una cosa che io ci stavo riflettendo mentre lei parlava prima, ma il lavoro. Il lavoro, lei mi dice, questa sarà una funzione che noi copriremo insieme a Campus, cioè Delegate, la fondazione Campus, che poi la fondazione, non l'abbiamo ancora detto, che è collocata nel seminario di Lucca, lì a Monte San Quiri, con ala del seminario, è occupata dalla fondazione Campus, che ha ben 12 anni di vita. Ecco, che cosa fa Campus concretamente per il problema del lavoro? Intanto c'è da dire che Campus, quelli che escono da Campus, sto parlando di quelli che fanno i corsi universitari, io credo che la media che riescono a trovare lavoro perché accompagnati da loro, siano sull'80-85%, quindi non è una cosa di poco conto. No, è un record. E quindi, anche per questi motivi, io ho voluto questa collaborazione con Campus, perché sfruttare, anche se il termine è un po', ma insomma, utilizzare Campus dopo questo corso a Palazzo Boccella, in maniera tale che chi non vuole continuare a studiare, che ha scelto di non continuare, possa essere facilitato a trovare lavoro, naturalmente con una condizione che deve essere disponibile andare nel mondo, perché... Ormai è così, no? Certo. Ormai è così. Ecco, ma torniamo un attimo indietro, perché lei aveva introdotto un discorso, quando finisce il periodo della vostra scuola, quindi praticamente a fine giugno, presumo più o meno che finisca come le altre scuole. Sì, metà giugno. Metà giugno. Che succede del Palazzo Boccella? Che cosa accade? Io ho sentito parlare dei cento giorni del Palazzo Boccella, ma che cos'è? Mi dica. La inventai un giorno mentre si stava parlando con le aziende e abbiamo realizzato, i cento giorni sono che dal momento, il cento giorni è tanto così per dire, perché non è che... Ma insomma, dal 20 giugno al 30 settembre si fanno eventi a Palazzo, quindi quest'anno abbiamo accostato all'attività l'enogastronomia, la musica, l'arte, la cultura, abbiamo presentato libri sempre del settore enogastronomia, c'è stato il concerto d'estate, facciamo vivere il Palazzo sempre però con l'atteggiamento di chi vuole approfondire i temi dall'enogastronomia alla cultura, a tutto quello che è la bellezza del territorio. Bene, quindi un Palazzo che oltre a insegnare il sapere, diciamo così, che sarà anche molto profumato visto che si parla di alta cucina. La ringrazio Presidente di questa conversazione e le faccio tanti auguri. Grazie.